Perché spesso sentiamo l'esigenza di dover primeggiare, di metterci al primo posto? Perché così pensiamo di valere di più. Il Vangelo di oggi invece ci invita alla serenità, stai sereno, tu vali già, non hai bisogno di metterti al primo posto, di vivere la vita come una continua competizione con gli altri per apparire e primeggiare. Spesso siamo lì a guardare la classifica, che punto siamo, che posto abbiamo, e questo vale sul lavoro, in un gruppo, anche in ambienti dove uno dovrebbe fare le cose per il piacere di farle, e non per avere una posizione, una sorta di medaglia sul petto. È anche vero che tutti abbiamo bisogno di trovare il nostro posto nella nostra esistenza, è normale cercarlo, devo capire cosa ci sto a fare qui sulla terra, chi desidero essere, ma non per questo devo prendere la vita come una gara, come una sfida continua, dove gli altri sono solo degli avversari da cercare di tenere dietro, dove sei sereno solo se ti sei lasciato alle spalle qualcuno, o meglio tutti. Cerchiamo sì il nostro posto nel mondo, ma senza dover sgomitare, senza l'ansia di dover sempre primeggiare, di dover ricevere più applausi degli altri, senza la pretesa di misurarci sempre con gli altri, di dover essere sempre di più. Noi siamo invitati da Dio alla vita, a vivere, ma viviamo con serenità, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, neanche a noi stessi. Tu vali solo per il fatto che esisti, non hai bisogno di sgomitare per sentir crescere il tuo valore. La vita non è una gara, ma spesso la interpretiamo così. E uso questo esempio. C'è gente che va in montagna, a correre, a camminare, e che anche se non sta partecipando in una competizione è sempre lì a guardare a fine camminata o a fine corsa quanto ci ha messo. Eh, ci ho messo 50 minuti, 51, 51 e 30 secondi, ma può essere interessante sapere ogni tanto quanto tempo ho impiegato, ma cosa mi cambia se per arrivare in vetta ho impiegato un'ora o un'ora e dieci? Cosa devo dimostrare? A chi? Non è forse meglio godersi la camminata o la corsa e chi se ne frega se oggi ci metto dieci minuti in più? E così lo facciamo anche, lo stesso comportamento ce l'abbiamo nella vita. Dio non ci ha invitati alla vita per vincere sempre, per essere sempre i primi. Dio ci ha invitati a vivere e questo basta. Ci ha invitati a vivere godendo ciò che la vita ci offre. Come quando ti sedi a tavola e non conta tanto dove sei seduto, ma il fatto che sei con delle persone a condividere un momento di convivialità e a farti una bella mangiata. Godi nel senso bello del termine. Godi la vita, non stare sempre lì a guardare in quale posizione sei. Ciò che fai lo fai solo per sentirti di più, per sentirti più su, più importante, più in vista o perché ci tieni davvero a quella cosa, perché sei contento di farla, di viverla. Io non valgo di più o di meno a seconda dei miei incarichi, delle poltrone che occupo, ma valgo solo per il fatto che esisto, che sono figlio di Dio, che Dio mi ha invitato alla vita, per il fatto che ci sono. Perciò devo imparare a scegliere con libertà ciò che voglio essere, ciò che voglio fare e la strada che voglio intraprendere. Buona giornata.